Senta, come ha detto, lei è uno dei questori della Camera, quindi tiene il portafoglio in mano. Quanto costa la Camera agli italiani ogni anno? Guardi, la Camera è una parola grossa ed è terribilmente grossa, costa un miliardo. Un miliardo di cui sono 700 milioni di stipendi, pensioni, vitalizi di personale ed ex deputati. E 280 milioni di spese per il mantenimento. Quindi un miliardo di euro. Sono 1.500 dipendenti. Senta, ho letto 800 mila euro per le spese degli ex deputati, per le spese. 800 mila che spese? A pari non sono le pensioni. No, quelle sono. Sono quelle? Sì, 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 sono probabilmente quelle. La Camera spende anche 27 milioni di euro per affitti. Affitti di... Su quelle è una delle piccole medaglie che mi posso appuntare perché sono riuscito a bloccare il 18 luglio i signor Scarpellini che è un legittimo titolare di un contratto di lunga durata con la Camera che però appunto affittavo i Palazzi Marino 1, 2 e 3 che sono su Piazza San Silvestro che sono utilizzati per dare gli uffici ai deputati che legittimamente devono avere un ufficio, solo che insomma si pagava... Cioè non bastano gli uffici della Camera? No, non bastano. Però ho fatto un'opera, ho fatto, insieme agli altri questioni abbiamo fatto, nel giro di 7 mesi abbiamo ritrovato solo negli spazi della Camera 120 stanze che possono evitare di far affittare almeno uno degli edifici di Palazzi Marini. Spendiamo anche 5 milioni 245 mila euro per stampare gli atti parlamentari. È il 2014, c'è bisogno di tutta questa carta. No. Gli stenografi poi, a chi servono ancora gli stenografi per stenografare tutto? No, io sono un neofita della politica, mi sto impegnando in questo, il contributo maggiore che sto riuscendo a dare è riportare sobrietà, mi faccio usare questo termine montiano, davvero nella spesa. Anche sulla carta siamo scesi letteralmente del 35%, quindi l'anno prossimo spenderemo il 35% in meno rispetto alla spesa. Perché si chiede la digitalizzazione di tutto il Paese e la Camera. Sì, stiamo andando verso la digitalizzazione chiaramente. Qual è la spesa più vergognosa, più incredibile che quando ha preso mano il possesso dei conti e ha detto no, questo non è possibile? Una cosa che l'ha fatta sobbalzare sulla sedia. Mi faccio dire che io per esempio ho rinunziato a uno degli appartamenti che era nella disposizione, loggi di servizio si chiamano, io sono questore dei vicepresidenti, sia il vicepresidente che i questori hanno rinunciato, alcuni immediatamente, io immediatamente, non sono mai entrato in una casa che era nella disponibilità dei questori. Quindi questo sicuramente l'ha fatto un po' sobbalzare, l'idea che ci fosse una casa per il questore. Questo immediatamente, in un contesto storico che non può permettersi più nessun tipo, proprio nel periodo dell'anticasta, la casta davvero non può vedersi raffigurata nell'utilizzo di un alloggio che invece ha dati... E una spesa di bilancio che ha visto? Quella su cui stiamo lavorando molto è davvero la ristorazione, la famosa ristorazione dove in una maniera che non è possibile più ammettere, ogni volta che uno si siede al tavolo della buvette, oltre a pagare quello che devi pagare, normalmente un prezzo da mensa dignitosa, ma da mensa, la camera paga per ogni posto 21 euro. Ed è una di queste antiche consuetudini che consentono, insomma... Ma chi vuol dire? Cioè un deputato si siede a mangiare, paga, ma la camera paga 21 euro per il solo fatto... Ma chi le paga? Le paga alla ditta che gestisce il... Per il solo fatto che questo si siede? Per il solo fatto, sì, esattamente. Lo scontino, lo scontino, per ogni scontino dato... Cioè oltre al conto? Oltre al conto. Cioè 21 euro per occupare una sedia? E la cosa che noi stiamo cercando di ridurre clamorosamente, ma non è facile, le rivoluzioni non si fanno in modo graduale, per esempio l'anno prossimo si passerà, sembra poco, ma si passerà da un aiuto di 14 euro oltre al pagamento di tutto quello che va. Per cui si riduce di... A 21 a 14. Esatto. Grazie.